Come mai Francesco Monte si trovava sotto l'abitazione della sorella di Belen? Nella trasmissione condotta della Panicucci è stato smentito il riavvicinamento tra un ex naufrago dell'isola dei famosi 2018 e Cecilia Rodriguez. Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato a Francesco Monte. Cioè ad un ex naufrago dell'isola dei famosi 2018, per chi non lo sapesse il modello pugliese la settimana scorsa si è auto eliminato dal reality, a causa delle accuse che gli sono state rivolte da un'altra concorrente. Vi anticipiamo che in questi giorni Francesco e la sua ex fidanzata, sono stati beccati a distanza riavvicinata da un giornalista. Francesco ha incontrato la sua ex fidanzata? Se non avete avuto modo di vedere il famoso telegiornale satirico di Antonio Ricci il 12 febbraio 2018, vi ricordiamo che l'inviato di questo programma ha intercettato Francesco Monte sotto l'abitazione della sorella di Belen Rodriguez. In particolare il modello pugliese ha ricevuto un tapiro d'oro, per il polverone mediatico sollevato da Eva Enger, che continua a sostenere che lui avrebbe comprato e fumato marijuana in Honduras. Ci teniamo a precisare che Francesco a Valerio Staffelli, ha ribadito ancora una volta, che i legali si stanno occupando di questa grave situazione, e soprattutto ha precisato di non aver mai comprato sostanze illecite. Sempre nel corso dell'intervista, l'attore Tarantino ha detto che se gli altri concorrenti della reality incentrato sulla sopravvivenza confermeranno la versione di Eva, ascolterà quello che hanno da dire. Per finire Staffelli ha detto a Francesco, che secondo alcune voci lui avrebbe dovuto vincere l'isola, e poi tornare tra le braccia di Cecilia, l'extronista ha risposto all'inviato con queste seguenti parole no, altrimenti si mette in dubbio tutto il mondo televisivo. Le rivelazioni di Alessandro Basile a mattino 5 minuti. Riguardo a ciò che vi abbiamo appena detto, vi comunichiamo che molti utenti sui social network dopo aver visto il servizio di striscia la notizia, con protagonisti Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, hanno sospettato che i due ex fidanzati potrebbero essersi visti in segreto all'insaputa di Ignazio Moser. Fortunatamente le cose non sono andate così, perché l'extronista e la modella argentina si sono incontrati casualmente. In particolare oggi durante la diretta di mattino 5, Alessandro Basile ha specificato che il suo amico Francesco è stato sorpreso nello stesso palazzo dell'ex fidanzata, perché molto probabilmente era uscito dall'agenzia, che cura parte della sua immagine, dato che si trova nella stessa via di Milano. Avete capito bene? Tra la sorella di Belene e il modello pugliese non c'è stato nessun ritorno di fiamma. Infine vi anticipiamo che anche Ignazio Moser ha ricevuto un papiro d'oro, e avrete modo di vedere questo filmato, alle 20,40 su canale 5, da striscia la notizia. Per leggere altre notizie su questa vicenda, non perdete i prossimi aggiornamenti. Per leggere altre notizie su questa vicenda, non perdete i prossimi aggiornamenti.